Gli occhi di Drone Arezzo al servizio della nostra città grazie ad un accordo con l'amministrazione comunale. Ormai da settimane questi droni stanno sorvolando la città di Arezzo per controllare il comportamento degli aretini e il rispetto dei decreti. Un controllo che si farà più intenso soprattutto durante le festività pasquali. I controlli sono uguali tutti i giorni e lo saranno anche per queste festività di Pasqua e Pasquetta. Quindi monitoreremo mattina e pomeriggio in varie fasce orarie che cambiamo, come cambiamo le location insieme alla polizia locale. Quindi organizziamo dei controlli mirati soprattutto a parchi e zone che dovrebbero in questo momento essere chiuse al pubblico. Ma notiamo che spesso e volentieri ci sono degli accessi dei ragazzi che vanno a giocare o persone che fanno aggregazione e quindi permettono il diffondersi potenziale di questo virus. Il drone ci permette in maniera molto rapida di esplorare molte zone in poco tempo. I vigili, la polizia locale è quasi sempre al nostro fianco. In dei momenti stiamo invece collegati via radio e noi li coordiniamo per vedere di raggiungere se ci sono dei comportamenti considerati non corretti secondo le disposizioni del sindaco stesso e del decreto che stiamo vivendo in questo periodo. Ecco, come azienda, come vi siete reinventati? Lavoriamo molto con produzioni americane, avevamo un grosso film con attori del calibro di Dyson Johnson, The Rock, Ryan Reynolds. Tutto confermato, autorizzazioni richieste, però per causa del coronavirus sono state cancellate e quindi abbiamo cambiato il modo di lavorare in questo periodo. Dunque, come azienda in questo periodo, oltre al monitoraggio che stiamo facendo per le forze dell'ordine, abbiamo avuto diverse richieste per riprendere le città vuote perché viene considerato un momento un po' particolare, ovvero avere Roma, Firenze, delle città vuote in una giornata di pieno sole. Speriamo di non vederlo mai più, però è un momento anche unico, quindi alcune case cinematografiche ci hanno chiesto di fare delle riprese che poi possono essere usate in futuro su dei film. Altre televisioni o società straniere per documentare questo momento e quindi vogliono vedere la città desolata, senza persone e quindi siamo riusciti a organizzare alcune uscite per fare questo tipo di riprese. Oltre questo abbiamo messo in moto un e-commerce per la vendita di video online, visto che in questo momento il lavoro da casa via internet è quello che va per la maggiore quindi abbiamo ripreso in mano un progetto che in realtà era partito più di un anno fa e abbiamo approfittato nelle ultime settimane per concretizzarlo. Infatti la settimana scorsa siamo potuti andare online con questo progetto.